Oggi l'Aula discute i quesiti referendari per intervenire sull'ipotesi di trivellazione in Adriatico. Come è nata questa battaglia e qual è l'obiettivo? La battaglia è nata in una riunione tra presidenti sia della giunta regionale e poi successivamente tra presidenti di consigli regionali. Abbiamo deciso quindi di presentare le proposte referendarie in cinque regioni almeno differenti. In realtà saranno le 11 le regioni che presenteranno questa proposta. Già è stata approvata dalla Basilicata, oggi le Marche insieme a altre tre regioni, nei prossimi giorni tutte le altre. A questo punto potremo presentare i quesiti referendari che mirano a cosa sostanzialmente? A evitare trivellazioni nell'arco di 12 miglia vicino alle coste dell'Adriatico e a ridare alle regioni i poteri di gestione del proprio territorio.